Giornata fiorentina per il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini è arrivato nel capoluogo toscano per presentare la manifestazione della Lega per il no alla riforma costituzionale di sabato 12 novembre che dalle 15 riempirà Piazza Santa Croce. Prima tappa a Palazzo Borghese dove Salvini ha incontrato le realtà produttive e artigiane di Firenze, poi conferenza stampa con i giornalisti per parlare della manifestazione, una piazza aperta a tutti quelli che credono nel no, ha sottolineato il leader del carroccio anche a Beppe Grillo, Massimo D'Alema e Berlusconi. Mentre la Leopolda urlava fuori 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 noi gridiamo dentro e guardiamo al futuro dell'Italia quindi chiunque voglia portare la sua testimonianza sabato è il benvenuto, parlerà il professor Becchi che era il cosiddetto ideologo dei 5 Stelle però ci sarà, io sono ben contento che ci sia. Dopo la guerriglia di sabato scorso per la manifestazione no Renzi e anche per quella della Lega è stata annunciata un'altra contro manifestazione. Tutto a posto, sarà una giornata tranquilla, se ci sarà qualche perditempo dei centri sociali con idee malsane verrà tenuto a bada. Poi Matteo Salvini ha fatto una visita ai militanti della Lega tra selfie e autografi con l'appello ad andare in piazza il 12 novembre. Ultima tappa in consiglio regionale per salutare i consiglieri della Lega ed è entrato in aula augurando buon lavoro a tutti. Qua c'è il gruppo della Lega che è il gruppo più forte di opposizione, si è vinto ad Arezzo, si è vinto a Grosseto, si è vinto a Cascina e quindi sono orgoglioso di come la Toscana sta rispondendo e si sta risvegliando. Io penso che Renzi dalla sua ex città sabato avrà una brutta per lui e una bella per noi sorpresa.